Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati nel canale. Oggi video molto veloce, ma dovevo assolutissimamente farlo, perché... Non so chi di voi compra mensilmente il giornale Webstars Magazine, ovvero uno dei giornali ufficiali di YouTube Italia, ma proprio la settimana scorsa ho scoperto che la redazione di Webstars Magazine mi ha inserita appunto all'interno del giornale dove ci sono gli articoli dedicati ai talenti emergenti. E il giornale è questo qui, ed è il giornale numero 11, ovvero quello lì di settembre. Io direi di andare direttamente alla pagina dedicata a me, ho messo anche il foglio per segnare la pagina, ed è questa qui, oh mio Dio! Troppo, 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 troppo... Oh! Felice! Il titolo che mi hanno dedicato è Crazy Makeup, e c'è scritto, si chiama Fabiana, 21 anni, e oltre ad essere una parrucchiera, è una youtuber e beauty blogger. Seguitela, si chiamate i miei capazzi, oppure i video assaggi degli snack americani, altro format cliccatissimo sul suo canale. Come sapete, io adoro gli snack americani, quindi... vi voglio annunciare che questa volta, per la prima volta, però purtroppo devo aspettare ad ottobre, farò degli assaggi degli snack americani dedicati ad Halloween, quindi preparatemi per dei video assaggi assurdissimi. Se qualcuno di voi, appunto, ha acquistato Webstars Magazine e mi avvista, può benissimo scattare la foto con, diciamo, il me... il me... che cosa? La Fabiana sul giornale, e inviatemi le foto o su Facebook o su Instagram, tanto ormai così è visto il mio nome e il cognome, come hanno fatto, appunto, tantissime altre ragazze che mi hanno taggata nelle loro foto. Ultima cosa, dimenticavo, insieme a questo giornale, questo mese, c'era il regalo il bastone dei selfie. Il giornalino senza bastone dei selfie costa 3,90, invece col bastone dei selfie se non erro 5,90. Quindi vedete un po' voi. A me ovviamente hanno inviato il giornale senza regalino, perché dicono, già ti stiamo inviando il giornale, devo inviare pure il regalo, quindi... Però secondo me ne vale la pena acquistare il giornale con il bastone dei selfie, perché alla fine l'ho pagata, diciamo, solamente 2 euro. E niente, io sono troppo, 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 troppo contenta, perché è la prima volta che io finisco sul giornale, quindi è una cosa veramente... Non lo so, mi sento esaltata. Ecco perché oggi mi vedete molto glitter, sì, ho anche le sopracciglia glitter, ma vabbè. Quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, e vabbè, diciamo, non ho fatto niente di particolare, volevo solamente avvisarvi che sono uscita su Webstars Magazine. E noi ci vediamo la settimana prossima con dei nuovissimi video. Ciao!